Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Dopo i leak delle scan di Korokoro della giornata di ieri e le loro non informazioni, quest'oggi o per meglio dire questa notte sono usciti due nuovi trailer, ovviamente uno italiano e uno giapponese, riguardanti più o meno le stesse informazioni che Korokoro aveva riportato in giapponese sul suo sito, più ragazzi due ultracreature. Questo di oggi ragazzi ovviamente non è un video analisi del trailer, è semplicemente un parere a caldo, dato che comunque l'ho visto solo adesso, ho tornato da scuola perché si mannaggia ho già iniziato la scuola E nulla, e nei prossimi giorni sicuramente arriveranno altri video molto più dettagliati su un'analisi generale del trailer e su alcuni particolari che ho già intenzione di trattare separatamente. In ogni caso ragazzi questo trailer l'ho reputato uno dei migliori in assoluto, anche se in realtà rispetto a Korokoro non vengono date informazioni così diverse in sostanza. Abbiamo i nomi delle due nuove forme di Necrozma, perché sì il trailer ci conferma anche che non saranno versioni alternative di... di... veniva a rescire a mezz'ecro, ma in realtà sono Solgaleo e Lunala, ma saranno due versioni alternative di Necrozma. Difatti due Pokémon si chiameranno rispettivamente, Necrozma criniere del Vespero per quanto riguarda Solgaleo e Necrozma ali dell'aurora per quanto riguarda Lunala. Come avevo detto nel video riguardo a Korokoro, i nomi giapponesi tradotti letteralmente non sono mai quelli italiani e puntualmente i nomi sono per l'appunto diversi, se non per criniera e ali. Poi che altro ragazzi? In realtà riguardo alle news di Korokoro non viene detto nulla di più, in realtà vengono fatti vedere molti screen fighi che andremo a trattare in futuro. Viene mostrata la mossa Z di Licarrock, anche questa molto bella e che vi ricordo andrà conosciuta in sostanza insieme alla mossa Pietrataglio. Vengono mostrati, insomma viene detto che il Rockcraft dell'evento sarà l'unico a potersi evolvere in Licarrock. Comunque cose già sentite, ma ovviamente la notizia che era anche quella in copertina e che non c'era sulle scan di Korokoro, che aveva andato in subbuglio l'intera, mannaggia l'intera community, sono state le due nuove ultracreature. Ora, avevo fatto un video sulle ultracreature di Sole e Luna dicendo come sarebbero state le reazioni se fossero state annunciate già dall'inizio come poco normali e puntualmente la gente ha cominciato a lamentarsi del loro aspetto. Ora, su Lucifragor, se non sbaglio dovrebbe chiamarsi così, sono pure d'accordo perché sinceramente non piace neanche a me e non penso che ci farò molto l'abitudine, un po' come ho fatto con Xurkitree, cioè personalmente trovo questo Pokémon davvero orribile ma sinceramente sono l'unico a cui la struttura piace, cioè a me piace quel Pokémon, cioè non so cosa mi piace di quel Pokémon però lo vedo molto semplice, molto caratteristico, con quegli occhi che spuntano come se in quell'edificio ci fosse una colonia di Pokémon la trovo un'idea carina, perché tutti lo odiano? Non capisco questo astio contro questo Pokémon a me sinceramente piace abbastanza, poi anche la venuta di due nuove ultracreature è interessante, sinceramente l'avrei auspicata perché comunque solo 7 ultracreature, insomma mi convince questa cosa qua che ne aggiungono spero che ne aggiungano magari altre due o tre o anche una in sostanza, mi va più che bene fatemi sapere anche voi ragazzi nei commenti cosa ne pensate di questa aggiunta e nulla, vi ricordo che il video analisi uscirà a breve e che questo non è assolutamente un video analisi comunque trovate in descrizione i trailer per andarli a vedere e dare un'occhiata a voi stessi anche perché ragazzi ci sono delle immagini davvero belle e delle cutscene davvero importanti e nulla, io spero che questo breve video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito lasciare un bel piaccio, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati al di fuori del canale youtube e premete la campanella per ricevere i feed, detto ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video ah e stasera alle 7 esce Insurgents, non ve l'ho scordata